la signora aveva solo quello vabbè non importa la carta mi piace la bella vabbè viene preso non sarà mai più sarà un figiardo è un gioco di società è il gioco più semplice di settimana di vermi interessante siamo stati sul shop ma non mi sembra ma se ti metti mezzo ah c'è anche è un gioco dell'occhio è un gioco dell'occhio è una cosa da ridere è una dolce per due è una dolce per due oddio mio io non mi conosco è una dolce per due è una dolce per due amore a casa si bosca perché si deve mettere questa roba fruga fruga ancora nella porta buco io buco io buco lei è carissimo buco io buco lei oddio mio guarda che ma quello sono altri dati è una cosa da mettere in acqua quello lì è una cosa da mettere in acqua e poi crescerà è un gioco da mettere in acqua ma cresce da vedere che cresce no amore amore per cortesia non facciamo più di questi mi metti il nostro corpo via via è carino non l'ho mai visto guarda è gioco di società è gioco di società giochiamo tutti i cibi se mi piace questo gioco questo lo faremo meglio no 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 sono solo dimenticata a casa noi veramente siamo dimenticati il tuo che ti dobbiamo dare nel cumpleaio abbiamo fatto solo a soldi però il nostro è tranquillo non è è carino però di rosa non c'è troppo niente tu hai prenduto il fiocco però perchè si l'abbiamo presso il fiocco per divertimento è carino vediamo le saprò dire dopo lo proviamo ma come dopo lo proviamo poi le sappiamo dire saprò dire la prossima il su face che comunque ero vedremo dai 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 cos'è la tua amore per quanto? la mia non lo so bravo è bene conoscendo la notte che si è la notte è la notte è la notte è la notte uno un biglietro ah bravo buore parola più reated Grazie!